Terza giornata del seminario l'emblema del viaggio qui a Mazzara del Vallo. Mazzara rappresenta appunto un emblema per quanto riguarda la migrazione e il viaggio dei migranti, quindi è una città fulcro e simbolo. Indubbiamente se tante università nel mondo studiano quel che succede nella nostra città sul piano della multiculturalità, della multietnicità, della problematica riguardante l'immigrazione ci sarà pure una ragione. Mazzara del Vallo si conferma città vocata a questo tipo di dibattito. Oggi ospita un seminario importante ma non è il primo, ne abbiamo fatte decine in questi anni e altri sono in programmazione convinti come siamo che le parole sono una cosa importante nella vita. Non ci sono fatti se questi non sono preceduti dalle parole, dall'approfondimento, dall'analisi. Oggi con la presenza del prefetto, con la presenza del vescovo, con altre autorità sono state affrontate questioni non soltanto astratte, anche concrete e pratiche. Come calare queste problematiche nel nostro territorio e come trovare delle soluzioni che siano valide per il nostro territorio ma anche esportabili. È una cosa straordinaria che a Mazzara del Vallo si sviluppa ormai da tempo e che naturalmente contribuisce ad accrescere il nostro bellissimo orgoglio per questa vocazione della nostra città. Un seminario che parla di emblema, di viaggio di migranti, spesso però si parla troppo di integrazione, di tolleranza ma si parla poco di accoglienza. Come mai, in che modo portare appunto una cultura dell'accoglienza anche su tutto il territorio e alle istituzioni e alle associazioni? Io credo che qualche volta le parole, più che essere un veicolo per intenderci e dialogare, rappresentano degli ostacoli o dei veli. Allora di fronte alla parola integrazione credo che in molti si ritraggono perché probabilmente il modello integrativo è un modello anche difficile da definire e da delineare e poi probabilmente esce un po' dalla accessibilità del singolo cittadino. Quando parliamo di accoglienza parliamo di qualcosa che ci è molto familiare, che riteniamo più alla nostra portata. Allora io direi non formalizziamoci tanto sulle parole, andiamo al sodo, ai contenuti. Allora se intendiamo correttamente il modello accoglienza non come un fatto che esprima solo spontaneità, apertura di porta o galateo e gentilezza ma lo intendiamo come incontro di persone che vogliono stabilire una relazione costruttiva. Allora partiamo dall'accoglienza, forse un domani arriveremo anche all'integrazione senza aver fatto una guerra di parole ma facendo evolvere modelli semplici in modelli ancora più complessi e comunque sempre promozionali e costruttivi. Come definire quindi Mazzara del Vallo sotto questo punto di vista? Mazzara del Vallo non deve essere definita, Mazzara del Vallo è già di per sé stessa un esempio e un modello nel quale l'incontro tra le diversità non è diventato mai una guerra o il tentativo di prevalere o di assorbire l'uno nell'altro. Allora Mazzara del Vallo da questo punto di vista nel dialogo tra le diverse istituzioni e tra le diverse istanze culturali può dire che l'accoglienza è possibile nelle forme anche più impegnative creando le condizioni perché l'altro sia riconosciuto e rispettato nella sua identità e nei suoi diritti. E questo può essere emblema e può essere l'inizio della creazione di modelli nuovi alla portata di tutti capaci anche di rivoluzionare le relazioni interpersonali tra le diverse etnie, tra le diverse culture, perché no tra le diverse religioni. Il nostro territorio è il primo porto in cui i migranti arrivano per il loro viaggio, quindi in che modo istituzioni e associazioni devono collaborare in funzione di questi migranti, di questo viaggio che portano avanti in cerca di una vita migliore? Siamo la frontiera d'Europa, siamo anche un territorio che ha proprio una naturale propensione all'accoglienza, all'ospitalità, proprio un sentimento direi. E quindi abbiamo un dovere ma anche una naturale propensione, siamo i numeri 1 in Italia in termini di accoglienza e più che i numeri lo dicono i numeri, intanto delle presenze sul territorio mi dicono 50.000 ma insomma forse di più. Ma anche il numero degli accoglienze in questi centri di prima accoglienza su un modello comunità famiglia distribuito e capillare che sta funzionando molto bene. Sono persone e non sono numeri, si prevedono tempi di attesa per la commissione non brevi, medi e quindi è fondamentale che queste comunità siano luoghi appunto in cui le persone vivono serenamente queste loro situazioni e cominciano già a vivere un'integrazione sul territorio. Questo è quello che sta succedendo e credo che sia negli ultimi mesi un'evoluzione molto favorevole. Spesso si parla di tolleranza, integrazione ma sarebbe forse anche meglio parlare di accoglienza a 360 gradi, giusto? Sì, diciamo che non so perché di accoglienza si parla poco, si parla poco non perché non c'è ma perché non se ne vuole parlare. L'opinione pubblica è sempre proiettata sul male più che sul bene, si parla molto di espulsione, si parla molto delle carenze del sistema, laddove arrivano numeri esorbitanti non riusciamo ad essere all'altezza. Però in generale non si parla del bene, in questo caso non si parla delle persone, che è brutto, mentre invece l'accoglienza è un sentimento a cor prima che un'organizzazione. Grazie.